Ancora novità tecniche, questa volta parliamo di un RPC a dischi, uno smart, un intelligente. Vogliamo parlare della macchina, vogliamo presentarla, di che cosa stiamo parlando quando diciamo di questo RPC smart? Sì, questa tecnologia smart è nuova, che integra l'isobus in questo RPC a dischi. La macchina è stata completata con più componenti, quindi è molto importante ampliare i campi di utilizzo per l'agricoltore. Abbiamo integrato con l'isobus, abbiamo maggior precisione e abbiamo una possibilità di integrazione con il trattore, con la CCI. Stiamo parlando di integrazione, dunque abbiamo il bisogno di una certa capacità poi da parte dell'agricoltore dell'utilizzo o rimane comunque un mezzo semplice da usare? Questo è un punto molto importante per noi, proprio nello sviluppo della macchina, perché noi lavoriamo proprio nel software assistenza per macchine del segmento lavorazione del terreno per un utilizzo semplice e performante, quindi utilizzabile da parte di tutti, veloce, come il telefono praticamente. Tutte le funzionalità sono veramente facili. Il progetto come è stato sviluppato, come è avvenuto lo studio? Abbiamo un team che se ne è occupato, c'è il product manager che sarei poi io, mi sono occupato di questo progetto e quindi abbiamo collaborato con i nostri tecnici e ingegneri e ci siamo interfacciati con gli operatori, l'agricoltore, quindi, che è il destinatario dei nostri prodotti. Ci sono state ovviamente molte collaborazioni nello sviluppo dell'elettronica e del software della macchina. L'innovazione tecnologica, quindi, non solo per la Francia, ma per tutta l'Europa. Sì, è per tutti i paesi in tutto il mondo, perché in tanti, in tutti i paesi si utilizzano le macchine per la lavorazione del terreno, adesso con la tecnologia Isobus, quindi il mercato è ampio, soprattutto l'Europa occidentale, che è il nostro mercato principale. Noi vediamo l'ora di presentare la novità a Leima. Grazie.